Tra l'anno scorso e quest'anno ha percepito 7.000 euro di reddito di cittadinanza e lo ha fatto in modo illecito. Si tratta di un uomo di Campobasso che, come emerso dalle indagini coordinate dalla procura ed eseguite dai finanzieri del capoluogo, aveva beneficiato del sussidio pubblico sulla base di false dichiarazioni riguardo i componenti della sua famiglia. In pratica altri suoi familiari, tra cui la moglie, avevano dei redditi e è stato denunciato. Il GIP su richiesta della procura ha così disposto il sequestro preventivo della somma ottenuta illecitamente, appunto 7.000 euro, e anche dell'apposita carta postamat reddito di cittadinanza per il prelievo dei soldi accreditati. Il sequestro di quest'ultima è uno dei primi in Italia. Sono decine i furbetti del reddito di cittadinanza scoperti dalla Guardia di Finanza, anche in Molise, e persone che hanno percepito il beneficio avendo in realtà omesso informazioni essenziali per ottenerlo. Sono scattate diverse segnalazioni all'autorità giudiziaria e all'Inps, così da far decadere la riscossione del contributo pubblico. Un monitoraggio attento e costante, quello delle fiamme gialle e della procura sul tema. Quest'attività, hanno sottolineato ai vertici del comando provinciale della Compagnia di Campobasso della Guardia di Finanza, il colonnello Antonello Cefalo e il capitano Giuseppe Melidei, è una delle mission istituzionali delle fiamme gialle per scovare i cosiddetti furbetti e affinché il sussidio pubblico sia concesso a chi ne ha effettivamente bisogno e diritto. L'illecita percezione, oltre ad aggravare l'iniquità sociale, genera un danno alle casse dello Stato, hanno rimarcato. Il sequestro preventivo disposto, ha detto il procuratore capo di Campobasso Nicola D'Angelo, si inserisce nel contesto delle linee di intervento della procura per reprimere i reati intervenendo non solo sui presunti autori ma anche aggredendo i beni che ne costituiscono profitto in un'ottica di deterrenza e recupero alla collettività di quanto acquisito in maniera illecita.